Mi pare che il profilo del Presidente della Regione sia a dir poco un profilo basso, bassissimo, e che lui tenda a tenersi sempre abbastanza alla larga dalla politica, il che è un po' curioso. Probabilmente Nicola Zingaretti si rende conto che qui il PD non farà proprio un ottimo risultato e nella migliore tecnica renziana di riferimento scappa.